bonus da 3000 euro per chi ha figli a carico alcuni mi scrivono ma bisognerà richiederlo l'anno prossimo poi altri mi dicono sono stata all'inps ho parlato con il caff all'ufficio paghe mi dicono che si dovrà richiedere poi più avanti no e l'inps tra l'altro non c'entra nulla bisogna scaricare il modulo e dov'è che ho letto questa cosa semplicemente ho studiato ho un caff e sto interpretando quella che la circolare 23 del primo agosto 2023 la puoi scaricare la puoi stampare ti invito una volta che l'hai stampata anche a ritornare al caff a ritornare all'inps e andare all'ufficio paghe e fargli vedere che così come ti ho detto io presentando un semplice modulo che puoi scaricare dalla mia pagina facebook davide caporusso e dopo se vuoi puoi anche richiedermi l'amicizia vi informerò anche su quel profilo lì tu però puoi rappresentare al tuo datore di lavoro e se vuole ti puoi riconoscere questo agevolazione questo beneficio economico quindi ribadisco circolare 23 e primo agosto 2023 inps ha chiarito tutto e bisogna chiudere il tutto entro l'anno fiscale un abbraccio seguitemi se questi video vi sono utili ditemi anche solo grazie nei commenti continuo ad aggiornarvi ciao 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 ciao